La violenza è scattata all'improvviso alla richiesta degli assistenti sociali di produrre altra documentazione per chiudere l'iter di disoccupazione e esplosa la rabbia cieca di un 54enne che alce e pugna le due impiegate comunali che sono state costrette a ricorrere alle cure dei sanitari del vicino PTE. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio a Chiara Montegulfi. Un disoccupato di 54 anni, Salvatore Giardina, con precedenti specifici e la sua giovane convivente si sono recati presso gli uffici dei servizi sociali per le pratiche di disoccupazione. Alla richiesta di nuovi documenti deve essere scattata qualcosa nella testa dell'uomo che ha cominciato a buttare oggetti per aria ad aggredire con calci e pugni le due donne. A quel punto sono arrivati i carabinieri che hanno tratto in arresto l'uomo e denunciato la sua convivente. Le vittime hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 15 e 5 giorni per un trauma cranico con ferita alla testa e una contusione al braccio sinistro. Al termine delle formalità di rito l'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria Iblea. In attesa del processo per rito direttissimo in cui sarà chiamato a rispondere dei reati di violenza e minaccia pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato.